Ciao ragazzi, che bello che sempre parlare con la gente mi piace. Allora, adesso stavo pensando, beh, cioè le cose sono quelle che noi le rendiamo. Per esempio, la globalizzazione. Beh, la globalizzazione è e sarà quella che noi, anzi, meglio, i giovani soprattutto renderanno. Lasciamo un attimo che questo concetto interrompa il nostro cammino, perché magari poi, più avanti, mi farà camminare più velocemente. Io, come voglio rendere la globalizzazione? Voglio che siano unite le competenze, i saperi, le menti? Cosa posso fare io per rendere la globalizzazione l'affare migliore dell'umanità, la figata più pazzesca della storia, la challenge più utile del mondo? Ciao!